Ciao Cinefusi.it When I find love again When I find love again Questa canzone qua di James Blunt intitolata When I find love again Non c'entra niente con il film di cui vi sto per parlare Cioè Love Again Però visto il titolo mi è venuto in mente di cantarla Vabbè Love Again È diretto da James Strauss A volte accreditato anche come Jim Che è tra i film che Ha diretto il primo Che è probabilmente quello più noto È Grace is Gone Con John Cusack protagonista Ma Love Again è anche Un remake di un film tedesco intitolato SMS for a Dich Scusate la pronuncia Ma a sua volta è basato sul romanzo Di Sophie Cramer Però i protagonisti di Love Again sono Prianka Chopra e Sam Hogan Entrambi sono noti per aver citato Soprattutto in alcune serie televisive Prianka Chopra è in quantico In primis poi di recente Ha anche recitato in Citadel Mentre Sam Hogan in Outlander Però nel cast di Love Again figura anche una star internazionale Che non nasce come attrice Bensì come cantante Ossia Céline Dion che interpreta se stessa E che funge anche dal ruolo di produttrice Tanto è vero che Céline Dion è stata fondamentale Nella lavorazione di questa pellicola Tanto è vero infatti che il titolo inizialmente doveva essere Poi nell'aprile 2022 Lo hanno cambiato in It's all coming back to me In omaggio proprio a It's all coming back to me now Che è un pezzo inciso da Céline Dion Nel suo album Falling into you Quindi capite quanto sia stata importante Céline Dion Poi a novembre 2022 Ha detto sentite Buona notte al secchio Chiamiamo sto film Love Again e basta Ma di che cosa parla Love Again? Love Again è un film d'amore Parla d'amore Parla di Mira Ray Che è interpretata appunto da Prianka Ciopra Che è fidanzata con un ragazzo Sono molti innamorati Però il ragazzo muore Perché un ubriaco lo è investito Lei dopo due anni ancora non riesce ad andare avanti Vive costantemente nel lutto Tanto è vero che continua a scrivere dei messaggi Al numero di telefono del suo fidanzato morto Messaggi di tutti i tipi Si confida Racconta come è andata la sua giornata Messaggi un pochino più sconci Messaggi più teneri Più profondi, più romantici Caso vuole però che il numero di telefono Del suo fidanzato morto Ce l'ha questo giornalista Che lavora al New York Chronicles Che è un giornalista musicale lui E si chiama Rob Barnes Interpretato appunto da Sam Hogan Lui anche ha avuto un passato amoroso Burrascoso Non come quello di Mira Ma comunque burrascoso anche lui Cioè che è stato lasciato dalla fidanzata Una settimana prima di sposarsi E lui da quel momento non crede più nell'amore Però continua a ricevere questi messaggi E lui non capisce chi sia sta persona Però non fa niente lui Lui non è che va a fare denuncia Risponde a questi messaggi Lascia passare Lascia passare Secondo me lascia passare anche film troppo Film troppo implausibile come cosa Comunque lui lascia passare Lascia passare Una certa si confiderà anche con i suoi colleghi di lavoro E c'è chi gli dirà Secondo me tu sei vittima di smishing Che sarebbe come phishing Ma qua essendo sms smishing Quindi cercano di ingannarti Cercano di truffarti Così che tu possa pagare dei soldi E quindi sono le classiche truffe E lui però appunto Piano piano cerca di andare a fondo Su questa cosa Cercando di capire chi si svela dietro questi messaggi Senza però mai rispondere Andrà poi a intervistare Céline Dion Per scrivere un pezzo su di lei E Céline Dion Lui si confiderà con lei E Céline Dion lo aiuterà Cercherà di guidarlo Lui poi incontrerà L'amittente di questi messaggi Nascerà l'amore tra i due Poi vedrete un po' cosa succederà Allora Com'è questo film? Parto da una premessa Secondo me farlo uscire l'11 maggio Non è proprio giusto Io l'avrei fatto uscire più a Natale È il classico film da vedere la domenica Pomeriggio Quando piove Fa freddo E Ti dà quello spirito Comunque non dico natalizio Perché non è un film Vero e proprio sul Natale Però ti lascia uscire dal cinema Con la speranza Con nonostante i temi difficili Che Tratter Che parla della perdita di qualcuno Ti fa uscire dal cinema Che ti lascia quel filo di speranza E ti lascia quel filo di allegria Comunque di fondo E secondo me era un film perfetto Da far uscire a Natale Spero che comunque possa incassare Il più possibile Ma ho qualche dubbio E io a maggio non l'avrei fatto uscire Comunque Per il resto L'ho trovato un film Però inutilmente forzato E come vi dicevo un po' Quando vi raccontavo la trama Secondo me lascia anche passare troppo Rob E poi anche la stessa Céline Dion Come carattere Ha un carattere molto forte Secondo me anche troppo Ora io non so se Céline Dion Sia così anche nella realtà Ma non dico che debba essere uguale Perché comunque interpreta E interpreta se stessa Ma è pur sempre un personaggio Però ha un carattere Secondo me non troppo Troppo vero Cioè mi sembra un pochino falso Per quanto lei nel film Possa essere sincera È troppo implausibile Anche lei di fondo Le recitazioni Diciamo che Prianka Ciopra L'ho trovata brava Sam Hogan L'ho trovato molto meno Bravo però Fa troppe facce Troppe elementari anche E appunto vi dicevo È troppo forzato È troppo forzato A livello proprio di trama Secondo me Nel senso che comunque Mi sembra troppo strano Che un personaggio Che riceve Continuamente Sti messaggi Non vada fino in fondo Non scrive Non risponde a questi messaggi Non va a fare denuncia Addirittura va lui di persona Per capire chi è L'amittente Di questi messaggi Senza aver risposto A uno di questi Quindi Uno su un milione Magari Ti può capitare Una volta su un milione Ti può capitare Magari di beccare La persona giusta Quindi anche lì L'ho trovata Fin troppo forzata Ma poi anche quando Scrivono i messaggi Sono troppo troppo rapidi Vi faccio un esempio Uno scrive Ciao come stai Non appena preme invio Già c'è la risposta Io benissimo Grazie tu Oggi ho fatto la spesa Cioè Magari non si scrivono neanche Ciao come stai Sono messaggi più articolati E quindi Uno insomma Già con ciao come stai Magari uno può già immaginare Mi sta scrivendo questo Quindi già li rispondo In questo modo Ma con messaggi particolati È praticamente impossibile I messaggi in tutte le scene Dove scrivono Dove chattano Arrivano alla svelta In un batter d'occhio Sembra che da una parte A chattare c'è Flash Dall'altra parte c'è Superman E si stanno scrivendo Tutto troppo veloce E Una cosa però Interessante Che c'è Secondo me nel film È anche una sequenza divertente È che c'è il vero marito Di Prianka Ciopra qui Che è Nick Jonas Ed è il ragazzo Con cui Prianka Ciopra Ha il suo primo appuntamento Online Però è un ragazzo Tutto muscoli Niente cervello Tanto che è una certa Si stanno baciando Lui la sta toccando Anche Lei dice Senti è meglio rallentare un po' Allora lui rallenta Mentre fa queste mosse E lui è il vero appunto Fidanzato di Prianka Ciopra Perché comunque sì Il film parla anche Di norma di questo Degli appuntamenti online Dell'amore al giorno d'oggi Con i social Con le chat Comunque un amore Che è insomma Leggermente diverso A questo punto di vista Rispetto a quello Che c'era in passato Però anche qui Non aggiunge nulla Di nuovo Cioè non è un film Che parla specificamente Di questo È un film Che parla d'amore In generale Cercando di lasciarti Qualche speranza Io vi devo dire la verità Ho iniziato A sorcere il naso Fin dall'inizio Continuo a sorcere il naso Poi però Da metà in poi Ho cercato di dire Beh dai Passiamo un pochino Oltre tutte queste forzature Pensiamo di goderci Il film E basta Nonostante tutti i difetti Che si trova E devo dire che Se uno la pensa così Magari il film Potrebbe pure risultare Piacevole A quelle persone Però se hai già cominciato A farvi qualche domanda Allora potrebbe Comunque Insomma Non soddisfarvi appieno Come appunto È successo a me Detto ciò Se il video vi è piaciuto Mettete like Iscrivetevi al canale Diteci che cosa ne pensate Se avete visto Questo film O comunque Se lo vedrete Visto che esce appunto L'11 maggio E Ciao Cinefusi .it Cinefusi